Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Svomo Salento. Allora quest'oggi proviamo una marca, un brand di aromi per me sconosciuto, è la prima volta che lo assaggio, Coffee Meal, sto provando un liquido prodotto utilizzando l'aroma del Glazed Popcorn. Glazed Popcorn. Allora partiamo da principio, un packaging impeccabile, molto gradevole alla vista, un vasettino tipo Popcorn o bibida americana da cinema, piccolissimo, tipo un bicchiere da bar, molto accattivante esteticamente. All'interno troviamo una boccettina da 10 ml in PET scuro, con dentro questa aroma profumatissima. Allora, per quanto riguarda la deduzione, partiamo un pochettino al contrario quest'oggi. La ditta consiglia il 10%, io vi consiglio invece di andare giù pesante, portatelo intorno al 12%, 12-12,50%, la maturazione consigliata sarebbero 7 giorni, pardon, la maturazione consigliata sono 3 giorni, voi portatelo a 7 una settimana, manca di più, ci sta benissimo. Dopodiché iniziate a provarlo. Allora. Quello che avvertirete immediatamente non è il Popcorn, bensì il caramello. Caramello bello persistente, corposo, dolcissimo. Avvertirete come uno zucchero, come se fosse zucchero filato che accompagna i vostri Popcorn e successivamente, a fine tiro, avvertirete la parte consistente del Popcorn. Molto gradevole, una novità per me, mi era stato consigliato, l'ho voluto provare, non costosissimo, online lo potrete trovare intorno ai 4 euro, 4,50 euro, presso rivenditore fisico intorno a 6 euro, devo dire un brand che mi ha sorpreso così come primo impatto, ho visto che ci sono tantissimi altri aromi su cui poter giocare e dove sicuramente mi potrò divertire. Allora, ricapitolando, glassed popcorn della Coffee Mill, come vi ho detto, packaging molto accattivante, fatto veramente bene, diluizione 12,50, andateci giù pesante, la maturazione steaming time, portatelo da 3 giorni a 7 giorni e poi divertitevi, divertitevi perché è un aroma, secondo me, alternativo a tanti altri brand, anche più brazonati, che stanno qui sul mercato. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima, provate questo aroma, questo glassed popcorn della Coffee Mill e ci vediamo alla prossima qui su Spapo Salento se ne avrete voglia. Ciao, buongiorno. Grazie. Grazie.